Siamo fortunati di avere un fiume di Risorgiva di questa importanza e di questa bellezza e quindi tutte queste manifestazioni, che sicuramente sono importanti per la manifestazione stessa dal punto di vista sportiva, danno la possibilità di una promozione turistica e anche ambientale di conoscenza del Sile, che secondo me è importantissima e in questi anni sta dando grandi frutti considerando che negli ultimi anni avranno portato fuori in barca solo la canzone del Sile quasi 3.000 persone che hanno avuto la possibilità di ammirare questo patrimonio che qualcuno ci ha regalato e che dobbiamo mantenere e preservare esattamente com'è se non anche migliorarlo. No, è completamente diverso perché dalla riva, specialmente perché le strade sono quasi tutte rialzate quindi non si ha la giusta prospettiva dalla barca, si ha la possibilità di vedere un patrimonio di fauna, di flora che secondo me è unico e di vedere anche il fondo, cosa che peraltro è molto difficile su tanti fiumi, anche perché è un fiume abbastanza lento, quindi da questa possibilità.